Giornata fredda questa dell'ultimo giorno del mese di marzo, marzo 2020, che ricorderemo per sempre nella nostra vita. Stasera avremo un ospite particolare, il dottor Tommaso Occhionero, del Poliambulatorio Progetto Salute di Termoli, colui che proprio ieri ha cominciato i test Covid-19, per cui appuntamento questa sera a Termoli Indiretta, avrete la possibilità di intervenire con vostre domande e qualsiasi altro tipo di intervento vogliate fare. Ma parleremo anche di imbecilli, quelli ci sono purtroppo sempre e tali devono essere nominati, coloro che nella giornata di ieri hanno messo in giro ancora una volta delle voci false su taluni che avrebbero nominato i nuovi untori del XXI secolo. Non ne possiamo più, però a nostro malgrado ci dobbiamo occupare anche di questo. Non fosse altro per mettere alla gogna mediatica, ovviamente non conosciamo i nomi, ma solo la figura di chi compie ancora queste azioni nonostante tutti gli avvertimenti fatti negli ultimi tempi. Quindi appuntamento a Termoli Indiretta questa sera alle 18.30. A dopo.